Ebbene sì, l'ex ballerino di Amici, Giuseppe Gioffre, ce l'ha fatta. A riportarlo è stato proprio l'ex ballerino professionista del talent show di Maria De Filippi, che ha confermato online di essere stato ingaggiato come ballerino per il Britney-Dominati All Show, il nuovo spettacolo di Britney Spears Amici, Giuseppe Gioffre ballerà per Britney Spears.La notizia ha letteralmente mandato in visibilio i fan del ballerino e vincitore di Amici di Maria De Filippi, Giuseppe Gioffre L'ex ballerino professionista di Amici ballerà per il Britney-Dominati Show, il nuovo spettacolo di Britney Spears, che comincerà il prossimo 13 febbraio a Las Vegas Eccomi qui, il sognatore che non si è mai arreso. Mamma ho trovato le chiavi del cassetto con dentro il mio sogno più grande, sono ufficialmente un ballerino di Britney Spears Queste ultime sono solo alcune delle dichiarazioni rilasciate per iscritto dal ballerino sul suo profilo ufficiale Instagram I sogni sono desideri di felicità, a pochi giorni dal Natale, Giuseppe Gioffre ha confermato di essere diventato un backup dancer di Britney Spears, l'idolo del ballerino e vincitore di Amici nonché principessa del pop Recentemente il ballerino aveva riferito online che non sarebbe figurato nella diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi, in qualità di ballerino professionista Britney Spears torna sul palco a febbraio 2019.La pop princess è reduce dal successo ottenuto con il suo Britney, Piece of Me Show, il primo residency show di Las Vegas che è stato nominato apostrofo Best of Las Vegas Sui suoi profili social media, la principessa del pop, Britney Spears, ha pubblicato alcuni video che la immortalano mentre è alle prese con le prime prove ufficiali per il suo attesissimo Britney Domination Pop Show Nel 2018 Britney Spears ha celebrato i primi venti dall'uscita del suo primo album, dal titolo Baby on More Time, che ha segnato il debutto della pop star nell'industria musicale .